Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme la giornata e diamo un'occhiata ai giornali. Ma prima, come sempre, passiamo all'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia. Eccolo qua, abbiamo San Siro. San Siro di Pavia, visse nel IV secolo, fu il primo vescovo della città e fece una grande opera di conversione. Siamo ancora ai primordi dell'era cristiana e quindi ancora il paganesimo era molto molto sentito, molto molto praticato in tutto l'impero romano. E fece anche un'opera di apostolato assistendo i più deboli, dando aiuto a chi aveva bisogno. San Siro è particolarmente venerato anche a Verona, a Venezia e ovviamente anche a Milano. I milanesi gli hanno intestato uno stadio, quindi pensate come venga venerato San Siro insieme a Sant'Ambrogio, insomma Sant'Agostino e via dicendo. Questo è il santo del giorno. Ed ora diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo. Ecco, vediamo dalla grafica che il tempo è variabile, più verso il nuvoloso che verso il sereno. Nubi basse ben presenti e poi ci sono anche delle foschie questa mattina. Qualche piovigine mattutina sul medio alto litorale. Vivace vento da nord ovest sulle coste, infatti sulle coste spirerà da nord ovest, mentre nell'introterra più da sud, quindi c'è una variazione di direzione del vento. Le temperature, le temperature sono basse, 5 la minima, 8 la massima. E il sole sorge alle 7.37 e tramonterà alle 16.26. Ed ora apriamo i giornali sulla pagina di Fano a partire dal Corriere Adriatico questa mattina e vediamo l'apertura. Si parla ancora di ospedale dopo il consiglio monografico che si è svolto l'altro giorno a Fano. Presenti i vertici della giunta regionale c'era il presidente Francesco Acquaroli, c'era l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e c'era anche l'assessore all'edilizia ospedaliera Francesco Balbelli. Ospedale restano le incognite, manca l'atto aziendale dell'Aste. È un atto fondamentale fin quando la dirigenza dell'Aste, l'azienda sanitaria territoriale, quindi in questo caso Nadia Storti, non predisporrà l'atto aziendale. Non si sa ancora che cosa andrà a finire al Santa Croce. Quali saranno i reparti, i servizi che l'ospedale di Fano potrà predisporre per i suoi assistiti. Un ospedale importante perché oltre a Fano adesso fanno riferimento anche le popolazioni che giungono dalla Valle del Metauro, dalla Valle del Cesano e quindi anche reparti molto importanti per l'assistenza immediata come il pronto soccorso. E in questo articolo viene alla ribalta anche il problema della malattia mentale, un problema che si è aggravato alquanto in questi ultimi tempi, in modo particolare dopo il Covid. Ci sono molti casi di depressione, molti casi appunto di malattia di malattia mentale. Ebbene, questo è stato fatto presente in modo particolare dai consiglieri durante il dibattito in Consiglio Comunale, dunque Tommaso Mazzanti del Movimento 5 Stelle, l'Apostola Ribalta, così come l'Apostola Ribalta e il capogruppo della lista civica in Comune, Carla Luzzi. Ma anche il sindaco di Fano ha chiesto un intervento in questo settore. La malattia mentale costituisce un problema sempre più radicato in questi ultimi tempi nel nostro territorio. E che cosa ha risposto la direttrice Nadia Storti? Ebbene, ha dato atto che in questi ultimi tempi, dando più importanza all'SPDC, ovvero a Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Pesaro e Fano, in realtà non si sarebbe agito in maniera più corretta, perché più che dare un servizio ospedaliero, in questo caso occorrerebbe dare un servizio di prevenzione e poi magari di assistenza dopo la fase acuta della malattia. E questo è un po' l'indirizzo che sta perseguendo appunto la direttrice. Poi c'è da supplire alla fuga degli psichiatri dal servizio ospedalieri, così come accade ai medici in altri reparti. Il problema della carenza del personale è stato a lungo trattato durante il dibattito in consiglio comunale. Insomma, un consiglio che ora chiede di accelerare i tempi per stabilire le competenze, le dotazioni, integrazione, autonomia, riferimento al territorio. Sono questi i problemi che vengono trattati in sede ospedaliera, in sede sanitaria. Cambiamo argomento. Ieri è festa della Immacolata Concessione. Siamo molto vicini al Natale. Tutte le iniziative natalizie, non solo a Fano ma anche a Pesaro e in altri centri della provincia, hanno avuto grande risalto. A Fano, per esempio, si è inaugurato il presepe del Pincio. Nel presepe gli atleti della Virtus vestiti da folletti. Gli vediamo qui in questa fotografia. Sono gli atleti della Smart System che stanno conducendo il campionato di A3. Siamo in alto classifica e con alterne vicende, però insomma vinciamo di più che perdiamo. Quindi è una squadra molto molto in gamba, quella della Smart System della Virtus. E ieri simpaticamente ha partecipato a questa iniziativa di inaugurazione del presepe del Pincio, che è un bellissimo presepe organizzato, realizzato dai maestri carristi fanesi, che ogni anno vi aggiungono delle figure. E quest'anno le figure aggiunte sono una donna portatrice d'acqua di colore, un pastore dormiente e un angelo. Ebbene, la donna ovviamente portatrice d'acqua accenna anche all'integrazione, all'immigrazione, quindi tutti si possono riconoscere nel presepe. L'iniziativa è stata inaugurata dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore agli eventi Etienne Lucarelli e poi a margine si è tenuto anche un evento di promozione della Moretta organizzato dalla Confesercenti. Una Moretta che è stata dibattuta tra un barista e un pasticcere, tra il barista del bar più famoso del Lido e poi quello dell'arte bianca, quindi il bonbon e arte bianca, perché poi la Moretta non solo si beve come un caffè speciale, ma viene usato anche per fare i dolci, per fare insomma nei cioccolatini, nei dolci elaborati, nei panettoni, insomma il gusto della Moretta si addice un po' a tutto. Ed ora giriamo la pagina e parliamo anche di Carnevale, anche se siamo un pochino in anticipo. Ebbene, a Carnevale, per quanto riguarda il Carnevale, durante il vento, il grande vento dei giorni scorsi, è successo veramente di qualcosa di importante. Carnevale ha rattoppato il portone, ma i capannoni restano precari. Abbiamo visto come il vento dei giorni scorsi ha letteralmente scagliato via delle lastre di cemento dei capannoni dell'ospedale, che sono molto alti in altezza. Ebbene, il presidente Gian Marioli lamenta disagi e rischi per le maestranze al lavoro. E per fortuna ha detto alla Gian Marioli che questo evento è venuto di notte, quando non c'era nessuno, perché se fosse venuto di giorno e queste lastre volando via fossero precipitate addosso alle persone, certo sarebbe stato un grave danno. Assicurate le condizioni minime per portare avanti il lavoro dei carri allegorici, il lavoro incombe, il Carnevale non è molto lontano. Ora occorre mettere in sicurezza i capannoni. Ed è questo un problema, una rivendicazione che coloro che operano nel Carnevale fanno da tanto tanto tempo, ma questa rivendicazione non è stata ascoltata e ora si pagano i danni. A breve comunque la riparazione definitiva dei danni del vento, ma occorre una manutenzione costante, una manutenzione generale che non si è mai verificata in tutto questo tempo. Sappiamo che i capannoni sono stati realizzati nel 2004. Vi ricordate una volta erano invece a ridosso delle mura malatestiane nei pressi del Sferisterio dove una volta si giocava con la palla. Giriamo la pagina, passiamo a Fossombrone, passiamo a Fossombrone perché vediamo un bellissimo atto di solidarietà. Dona per solidarietà 26 mila euro, la nostra più cara benefattrice. Parla così il presidente della bocciofila di Fossombrone che ha una cara amica di tutta la società, ovvero un'infermiera, un'infermiera che vive solo e nel corso degli anni ha donato 26 mila euro alla bocciofila. La bocciofila ovviamente questi soldi li usa anch'essa per iniziative di solidarietà, di beneficenza ed ora darà questi soldi 3 mila euro alle famiglie bisognose. Quindi è una catena di solidarietà che si perpetua e che si amplia. Magico Natale anche a Fossombrone si accende lo spettacolo di luci e scende la neve, una neve finta, inaugurato a Fossombrone il Magico Natale che proseguirà fino al 7 gennaio prossimo. Ebbene c'è stato un augurio speciale che ha caratterizzato questa iniziativa, lo ha portato l'onorevole Antonio Baldelli che è andato in Israele, quella terra tormentata da una guerra tra Israele e palestinesi, tra Israele e Hamas, che sta mettendo tante tante vittime ed ecco perché quest'augurio ha un qualcosa di più, una forza di più, una speranza per un futuro migliore. Il sindaco Massimo Berloni ha ricordato il valore della rassegna che non è solo spettacolo per quanto importante, ma un'occasione per vivere tutti in un clima fatto di abbracci e di emozioni, quindi anche i sentimenti hanno la loro parte nelle feste di Natale, quindi emozioni e tanto desiderio di pace. E parliamo ancora di Natale perché a terra roveresca è stato inaugurato questo bellissimo presepe fatto all'uncinetto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ebbene, questo presepe, questo quadro grandissimo, alto sei metri e largo cinque, campeggia in città. Barchi si è rifatta in Lucche per le festività natalizie e nel centro storico splende, diciamo così, in tutta la sua bellezza questa natività. Vediamo qualche dato. Ebbene, sono serviti 20 chilometri di filo e un'enorme quantità di cotone e di lana con gomitoli di ben 39 colori diversi. È alto quasi sei metri e largo cinque ed è composto da 11.000 quadratini che uniti insieme regalano uno spettacolo veramente straordinario. E pensate, vi hanno lavorato per quasi un anno e 11 mesi esattamente, tante tante persone con passione e impegno per dar vita a questa opera meravigliosa. E dobbiamo dire che poi nell'articolo vengono riportati tutti i nomi, doverosamente, perché queste signore hanno lavorato per tanto tempo, con tanta pazienza e tanta umiltà. Il papà di Mattia la comunità non lo dimentica e proprio in questo periodo 7-8 dicembre si ricorda la tragedia di Corinaldo. Mattia è una delle vittime di questa strage. Cinque anni fa la strage di Corinaldo, alle 21, messa in ricordo anche di Asia. Che cosa dire ancora su questa vicenda? La comunità, come tutti gli anni, da quella terribile serata, anche in questi giorni si è stretta al dolore dei familiari dei due ragazzi, Mattia e Asia. Il babbo di Mattia, Giuseppe Orlandi, anche a nome della moglie, ha voluto affidare i ringraziamenti ai social, con dei pensieri molto molto toccanti e così, insomma, hanno fatto un po' tutti. Oggi, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta, la comunità si stringerà in perghiera in ricordo di Asia e delle vittime della tragedia di Corinaldo. Quindi chi vuole può partecipare a questo rito. Vediamo ora le altre notizie per quanto riguarda l'entroterra. Passiamo a Senigallia, anzi no, non andiamo nell'entroterra, siamo ancora sulla costa e vediamo come a Senigallia si è scongiurato proprio per i capelli una tragedia. Si svegliano con nausa e mal di testa, intossicati dal monossido di carbonio. Sono tre persone che sono state soccorse in casa con dei malori, probabilmente hanno respirato un gas nocivo. Due in camera, ora sono due in camera iperbarica, forse una perdita dalla caldaia. È avvenuto a Castellione di Suasa tre intossicati da monossido di carbonio in un'abitazione. Si tratta di tre adulti, una coppia e un loro familiare. Tutti soccorsi dai sanitari del 118. Si sono risvegliati al mattino con dei malori, hanno capito che qualcosa non andava e quindi sono stati ricoverati due nella camera iperbarica di Rimini, dove sono stati trasferiti nell'immediatezza del soccorso, visto che le condizioni di salute cominciavano essere critiche. Il terzo invece è stato portato all'ospedale di Torrette, trattenuto in osservazione. Per fortuna non sono in pericolo di vita. E ha tentato di togliersi la vita invece una persona che sta a Senigallia, che è stata salvata in extremis. Aveva pensato di togliersi la vita richiudendosi nell'abitacolo della propria autovettura con un tubo collegato al gas di scarico. Per fortuna è stato notato da un passante che è intervenuto cercando di dissuaderlo. L'uomo ha detto, vabbè adesso vado via, però insomma ci riprovo. Allora l'uomo che il passante ha chiamato i carabinieri, i quali poi lo hanno ricercato, quest'altro avevano visto che aveva tentato ancora di fare questa brutta cosa e quindi alla fine lo hanno salvato. Tubo collegato allo scarico tenta due volte di uccidersi. Ecco qua l'articolo di cui parliamo. Ed ora passiamo all'apertura della cronaca pesarese dove vediamo che si parla ancora del San Benedetto. Ecco qua l'articolo. Restauro San Benedetto per trovare l'impresa ci vorranno nove mesi ma occorre battere i tempi per installare questo cantiere. I tecnici del comune sono pressati dai tempi stretti via alla gara d'appalto soltanto due anni per ristrutturare l'ex manicomio che cade a pezzi. È uno stabile infinito grandissimo che può essere comunque recuperato perché dentro ci stanno tante cose e tra l'altro è anche un edificio storico. Sisma, enti locali e curia restano ancora in attesa. Il consigliere regionale Biancani sollecita l'assegnazione dei fondi per gli edifici pubblici. Ci sono ancora delle chiese che sono inagibili come la pieve di Candelara che è ancora chiusa. Vi ricordate che il terremoto è accaduto qualche tempo fa. L'abbiamo un po' visto tutti anche qui dalla redazione di Fano TV. Gazebo da smontare entro il 20 gennaio. Chiudo l'uno ma non so quando riaprerò. Parla Germano che si appella al comune per poter rivedere il regolamento sui De Orse e diventa veramente un caso la caffetteria Germano che a gennaio dovrà smontare il caratteristico De Orse in piazzale con l'enuncio per adeguarsi al regolamento comunale che prevede una struttura più leggera. Ebbene, insomma, quando si tratta di cambiare un po' queste cose che sono un po' precarie, però sono quasi stabili, insomma, qualche problema si crea. Versace, monitorati i viaggi a Pesaro, vende auto, si spostava per lavoro. Si parla del delitto bruzzese per il quale è in corso ancora il processo. Sei mesi di intercettazione, la ricostruzione di quei viaggi a Pesaro e dintorni, per la Procura la prova della regia dell'omicidio per la difesa viaggi di lavoro. Un'altra udienza per il processo a carico di Rocco Versace, il 57enne calabrese che avrebbe avuto, secondo la Procura, un ruolo chiave nella pianificazione dell'omicidio di Marcello Bruzzese. Ricordate, è stato ucciso il 25 dicembre del 2018 in Via Bovio a Pesaro. Ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino. L'apertura è dedicata ad una notizia che forse sorprenderà parecchi. Ebbene, Mussolini è stato nominato, a suo tempo ovviamente, cittadino onorario di Fano. Ebbene, insomma, adesso questa decisione lascia un po' a desiderare e fa storcere la bocca a molti. È una vergogna. Zacchelli in pressing, mascarin all'opera. Ebbene, che cosa è accaduto? È accaduto che Dino Zacchelli, che attualmente ricopre il ruolo di presidente del Centro Studi Vitruviani, ma che in passato ha alle sue spalle un passato politico. È stato anche assessore all'urbanistica del Comune di Fano. Ha lavorato tanto tempo in provincia nell'ambito della cultura. Ebbene, nel centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, che cade il 10 giugno del 2024, si revochi la cittadinanza onoraria di Fano a Benito Mussolini. Ebbene, questa cittadinanza onoraria è stata approvata dal Consiglio Comunale di Fano il 24 maggio del 1924, fatto di cui sono a conoscenza ben pochi fanesi. Ed ora dice, vabbè, insomma, la togliamo questa cittadinanza. Ovviamente il primo a essere d'accordo è stato Samuele Mascarin, che poi tra l'altro è assessore alla memoria. E quindi ora si attiva tutto questo procedimento per togliere. È un procedimento un po' inconsueto, perché insomma non capita tutti i giorni o una cosa del genere, anzi credo che non sia mai capitata. Ed ora alla questione è interessato anche il segretario comunale, che deve individuare come procedere per approvare questa iniziativa. E poi il resto del Carlino fa ancora un toto candidature sindaco e nell'ambito della Lega evidenzia come Gianluca Ilari sia un probabile candidato. Gianluca Ilari è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Fano. Per i candidati sindaci la Lega punta su tre nomi, afferma Anna Marchetti del Carlino. Alessandro Brandoni, che è il segretario, e poi il segretario provinciale Enrico Rossi, e il capogruppo Gianluca Ilari. Quest'ultimo sembra in pole position, visto anche il gradimento che potrebbe raccogliere tra gli alleati. Noi vorremmo, afferma Brandoni, una figura di rinnovamento, non solo dal punto di vista anagrafico, ma anche delle idee e delle prospettive politiche. E intanto il candidato dell'area civica, Giuseppe De Leo, protagonista mercoledì pomeriggio, vi ricordate, di un confronto pubblico con Samuele Mascarin, continua a lavorare per un possibile accordo con il centrodestra. Quindi in centrodestra avrebbe Giuseppe De Leo, e d'altra parte un candidato della Lega. Non si sa ancora nulla per quanto riguarda Fratelli d'Italia, ma tutto è ancora in fieri, tutto è ancora in evoluzione. E qui vediamo ancora la fotografia di Fausto Mazzanti, il giocatore del Fano Calcio, morto il 28 novembre scorso a Fossombrone, nella struttura Casa Argento, era malato di Alzheimer da giovane, dunque aveva giocato nella visse e nell'alma. Ebbene, ci sono state, non so se proprio delle polemiche, insomma, delle diversità di vedute, diciamo, le sorelle della vittima, in una lettera aperta, avevano manifestato le loro perplessità e chiesto a chiarimenti sugli ultimi mesi di vita dell'adorato fratello Fausto, già malato da cinque anni, definendo la sua permanenza all'interno della struttura fanese, quella del Cante di Montevecchio, come l'inizio del suo calvario, conclusosi nel giro di qualche mese. Ora c'è la replica del presidente di Bari, della RSA, di Cante di Montevecchio, che risponde, ci preme innanzitutto comunicare ai familiari la nostra vicinanza per la scomparsa, e poi dice che le condizioni di salute di Mazzanti erano già critiche prima dell'ingresso nella struttura, e quindi all'interno di questa sono stati dati tutti i servizi insomma nelle migliori condizioni, insomma non è che è stato trascurato. E poi vediamo anche qui l'articolo che riguardano gli Elfi della Virtus Volli per la Natività Alpincio, inaugurato l'allestimento dei maestri carristi con ben 14 figure, sono 14 i personaggi che popolano il presepio del Pincio, ma dobbiamo dire che ieri sono un po' accese le luci su tutti i quartieri della città di Fano, a Centinarola, a Metauriglia, a Tombaccia, a Poderino, insomma c'è stata un po' la festa dappertutto e hanno brillato le luci degli alberi natalizi. E nel presepe di Giannetto Palluzzi spunta il pastorello Berardi, sono 11 pupazzi in creta colorata dell'artista Paolo del Bianco, tra loro c'è pure Storer e Don Achille, sono personaggi fanesi. A Urbino Roberto Burioni dice no grazie al Partito Democratico, continua a fare il prof e divulgare la scienza. E questa era l'ultima notizia, a questo punto non possiamo altro che chiudere i giornali, augurandovi un buon weekend e dandovi appuntamento alle 7 di lunedì prossimo. Grazie per l'ascolto, a risentirci.